L'abbiamo atteso, l'abbiamo voluto, fortemente desiderato. Video finalmente su Albert Camus. Chi è Albert Camus? Camus è uno dei grandi pensatori e letterati del Novecento. Il suo nome è molto noto ai lettori, al pubblico dei lettori. Camus è una delle grandi voci del Novecento. Un scrittore estremamente politico, ha scritto opere importanti. La peste, il mito di Sissifo, l'uomo in rivolta. Noi analizzeremo però questo bellissimo romanzo, come sapete bene ormai dal trailer, quasi a superfluo dirlo, Lo straniero, L'Etranger. Romanzo intenso, importante. Camus nasce nel 1913 nell'Algeria, colonia francese. Ed è certamente un pensatore. Dico certamente perché? Perché Camus non appartiene, e noi di Intusleggere pensiamo che questo sia un grave errore, un grave limite, non appartiene alla schiera dei pensatori convenzionali, dei pensatori che si trovano sui manuali scolastici. Camus è uno di quei pensatori che sta al confine, ma al contempo dentro, la filosofia. Camus non è mai estraneo. Non esiste però un trattato di filosofia di Camus. Non c'è un vero e proprio libro in cui si spieghi la filosofia di Albert Camus, che però è costellata in tutta la sua produzione letteraria e anche nello straniero. Camus è stato un intellettuale militante, così lo chiama Michael Walzer, uno studioso importante. È stato un intellettuale militante, comunista, aderì al partito comunista francese. E tuttavia la sua adesione non è mai un'adesione piena e un'adesione all'ideologia ufficiale. Camus è sempre un outsider, Camus è sempre un pensatore troppo libero, se volete, per stare chiuso in una gabbia ideologica, in un'esperienza filosofica che non sia una voce libera, una voce indipendente. In questo senso Camus si potrebbe dire, ecco, con lo straniero, che lui prova estranietà rispetto a qualsiasi tentativo di classificazione. Tuttavia possiamo dire con certezza che Camus è un esistenzialista, se gli dovessimo dare un'etichetta. Un esistenzialista molto diverso da Sartre. Sartre scrive ad essere il nulla, oltre, diciamo, appunto all'esistenzialismo e all'umanismo che abbiamo visto con Andrea in un altro video di Intus leggere. Camus è un esistenzialista, un esistenzialista è a particolare, come abbiamo capito. Se dovessimo dire qual è il suo pensiero filosofico, noi possiamo risalire all'assioma di fondo, per così dire, della sua filosofia, quella che possiamo ritrovare nei diversi scritti e che possiamo quindi enucleare dai diversi scritti, è certamente la teoria dell'assurdo, la dottrina dell'assurdo. Per Camus, però, e questo Camus è profondamente esistenzialista, l'assurdo non è un concetto. L'assurdo, lui dice, è un sentimento, è un sentire. E sentire che cosa? Che il mondo, l'esperienza di vita che noi facciamo, come esseri umani, non ha un senso, non ha un centro, non ha un'essenza, non c'è un assoluto. L'uomo che chiede l'assoluto e che pretende o chiede all'essere che vi siano dei valori assoluti, non trova risposta, non c'è centro, non c'è assoluto. C'è un mondo respingente, un mondo che non trova mai senso. Di fronte a noi, piuttosto, si spalancano le porte dell'assurdo, le porte di un non-senso, un senso che non c'è, non c'è stato e non ci sarà. Camus è rappresentante di questo esistenzialismo. Per certi versi è il filosofo esistenzialista per eccellenza, tormentato, estraneo talvolta persino a se stesso, estraneo a una linea di pensiero che possa dettare legge. Ma le sue opere sono notissime. I lettori conoscono benissimo Camus. Lo straniero è una delle opere più lette, è un'opera meravigliosa, come vedremo. Quello che noi dobbiamo fare è cercare in Camus un pensiero filosofico. E lo possiamo fare attraverso le opere, anche attraverso lo straniero, ma questo va fatto con cautela, perché c'è il rischio di far dire a Camus quello che noi vorremmo che gli dicesse. Quindi noi, come al solito, come facciamo con Intus Legger, andremo a leggere tra le righe del testo per tirar fuori il succo filosofico, per così dire, di questo grandissimo pensatore e letterato. Camus è certamente un filosofo. E lo è, secondo noi di Intus Legger che portiamo avanti questa battaglia, lo è contro il pensiero accademico, contro il pensiero banalmente convenzionale che classifica i filosofi sulla base della manualistica, dei manuali. Camus non lo ritroviamo nei manuali di filosofia del liceo. E tuttavia noi di Intus Legger siamo convinti, noi, ma sarebbe assurdo dire il contrario, che Camus sia un grandissimo filosofo, un grandissimo pensatore. E l'errore di quell'approccio alla filosofia convenzionale e manualistico è proprio quello di dare un diploma di filosofo, per così dire, soltanto a chi scrive trattati di filosofia, a chi è riconosciuto come filosofo dalla comunità scientifica. Di fatto le opere letterarie di Camus sono opere intrise di filosofia. Non inserirlo tra i filosofi, è qualcosa che è semplicemente contro i fatti, contro la storia di Albert Camus. Qual è la trama dello straniero delle Trangerie? È una trama semplice, con pochi personaggi, ma ben definiti. È un protagonista, Mersol, che ha una donna con cui fa abitualmente l'amore, Maria, un vicino di casa, Raymond Sintet. La sua esistenza ordinaria, ma più che ordinaria, la sua esistenza che sembra scivolare verso un pieno unichilismo, un'esistenza in cui sembra che gli avvenimenti e ciò che accade sia pressoché tutto uguale nella vita di Mersol, viene sconvolto dal fatto che Mersol, in una spiaggia, uccide un arabo, insieme appunto con la complicità di Raymond Sintet. Si macchia di questo omicidio. Subisce poi un processo. Processo che però lui vivrà sempre, anche qui, con assoluta estranietà. non proverà mai ad essere, non proverà mai a trovare degli alibi. Non tenterà mai, dinanzi al giudice, di dire che non è colpevole. Ammetterà la sua colpa in modo tranquillo, pacifico, sereno, quasi come se anche qui questo non gli importasse più di tanto. Altra cosa che sconvolge il lettore, che non sa, questo personaggio, perché vive un evento così grave, così sconvolgente come l'aver ucciso un uomo, con questa tranquillità, con questa serenità, quasi come se questo qualcosa non lo riguardasse. Il rapporto con Maria, appunto, è un rapporto basato sul sesso. È un rapporto di puro godimento, di piacere, non c'è nessun vincolo che non sia quello del piacere. Mersol viene condannato. Viene condannato, finisce in galera, ed è qui che incontriamo un altro personaggio importante del romanzo. Il prete, prete che tenta un colloquio disperato con Mersol per convincerlo della bontà della fede cristiana, del valore del perdono, della possibilità di redenzione attraverso la cristianità. Mersol, in un primo momento, rifiuta totalmente le parole del prete. Il prete che però continua ad insistere e che ad ogni costo vorrebbe convincere Mersol. Mersol a quel punto ha addirittura una reazione spropositata, si fa prendere dall'ira e quasi arriva alle mani con questo prete, appunto dicendovi che lui se ne infischia di tutte queste storie sulla religione, sul perdono, sulla carità, sulla possibilità di redenzione. Il romanzo finisce con un Mersol che è condannato a morte, condannato alla galera, e quindi rifatta a una condizione che non è di vita, quindi a una condizione disperata, in cui noi potremmo pensare che un uomo si trovi nella piena respirazione, nella disperazione più totale. In realtà Mersol dice, e il romanzo si chiude così, che addirittura Eddie è persino felice, per certi versi, di questo finale, in cui Eddie nota, è il tema tipico di Albert Camus, che nel mondo non c'è assolutamente senso, che la vita umana è l'insensato, e questo senso di estraneamento dal mondo, dalla realtà, dalla sua stessa vita, gli procura persino una stranissima gioia, e di si lasciacullare da questo nulla, da queste onde del mare che lo trasportano in un assoluto nulla, in un'esistenza senza centro, senza senso, senza assoluto. Capite bene che questo appunto è un romanzo eccezionale, straordinario, nonostante una trama tutto sommato semplice, come dicevamo. L'inizio del romanzo di Camus è già tutto un programma, si potrebbe dire. La madre di Mersol muore, evento che generalmente sconvolge la vita di un uomo, la morte della propria madre, uno degli eventi più drammatici per un uomo. Eppure stranamente, quindi Camus mostra uno dei temi portanti del romanzo sin dalle primissime parole, eppure Mersol sembra vivere questa cosa con un atteggiamento assolutamente anomalo. Lo capiamo dalla citazione, dalla pagina del testo. Oggi la mamma è morta, o forse di ieri, non so. Ho ricevuto un telegramma dall'ospizio. Madre è deceduta, funerali domani, distinti saluti. Questo non dice nulla, è stato forse ieri. Mersol non sa se la madre è morta oggi, di ieri. Sembra non dare peso, non dare importanza a questo evento. Evento che, ripeto, contraddistingue la vita di un uomo. Un uomo, quindi, che di fronte, anche al più grande pathos, anche ad avvenimenti più tristi, sembra non essere scalfito da ciò. È un uomo che appare, sembra essere cinico, ma non si tratta di cinismo, si tratta piuttosto di nichilismo, del nulla di senso che contraddistingue il reale, e la vita, e l'esperienza umana. E che quindi ha come orizzonte un senso che non c'è, che non ci sarà. Si è detto che il rapporto di Mersol con Maria è un rapporto di puro godimento, un rapporto puramente sessuale, in cui non c'è altro. Vediamolo in questa citazione. «Questa mattina Maria è restata da me, e le ho detto che si sarebbe mangiato insieme. Sono andato giù a comperare la carne. Mentre risarivo le scale, ho udito una voce di donna nella camera di Raimondo. Raimond Sintes, il vicino di Mersol. Un po' più tardi il vecchio Salamano ha sgridato il suo cane». Salamano è l'altro vicino, che parò un ruolo più marginale, l'altro vicino di Mersol. «Abbiamo udito un rumore di suole e di zampe sui gradini di legno della scala, e poi, maledetto, carogna, uscivano in strada. Ho raccontato a Maria la storia del vecchio, e lei ha riso. Si era messo un mio pigiama di cui aveva tirato sulle maniche. Quando ha riso ho avuto ancora voglia di lei. Un momento dopo mi ha domandato se l'amavo. Le ho risposto che era una cosa che non significava nulla, ma che mi pareva di no. Lei ha avuto l'aria un po' triste». Una donna chiede a un uomo, se l'ama, e lui dice che è una cosa da nulla, una cosa che non ha importanza. L'amore che muove il mondo, o almeno è una delle cose che muove il mondo, secondo gran parte dell'umanità, anche qui sembra una cosa del tutto irrilevante. Il nichilismo di Camus, ma questo è il senso probabilmente del nichilismo, sta nel fatto che per Camus e per Mersol, per il protagonista dello straniero, tutto è uguale. Essere impegnati in politica, essere capaci di imprese eroiche, di gesti di pura solidarietà, di puro disinteresse, ammazzare un uomo, fare l'amore con Maria, decidere di starsene a dormire, decidere di non fare nulla, tutto è uguale. non c'è una differenza, non c'è una scala gerarchica, non c'è qualcosa che abbia più valore di qualcos'altro, niente ha valore. Questo è il tema del nichilismo, il tema che sta nel fondo del romanzo di Camus e dell'esperienza dello straniero. La morte dell'arabo è l'evento che modifica l'esistenza di Mersol. Quest'arabo aveva ferito Raymond Sintè e Raymond Sintè gliel'aveva giurata. È in questa spiaggia che si consuma questo omicidio. Leggiamo come lo descrive Camus nel romanzo. A causa di quel bruciore che non potevo più sopportare ho fatto un movimento in avanti. Sapevo che era stupido, che non mi sarei liberato dal sole spostandomi di un passo, ma ho fatto un passo, un solo passo in avanti. E questa volta, senza alzarsi, l'arabo ha stratto il coltello e me l'ha presentato nel sole. La luce ha balenato sull'acciaio e fu come una lunga lama scintillante che mi colpisse alla fronte. In quello stesso momento il sudore del dalle mie sopracciglia è colato di colpo giù sulle palpebre e le ha ricoperte di un velo tiepido e denso. Non sentivo più altro che risuonare del sole sulla mia fronte e indistintamente la sciabola sfolgorante sprizzata dal coltello che mi era sempre di fronte. Quella spada ardente mi corrudeva le ciglia e frugavano i miei occhi doloranti. E allora che tutto ha vacillato. Dal mare è rimontato un soffio denso e bruciante. Mi è parso che il cielo si aprisse in tutta la sua larghezza per lasciar piovere fuoco. Tutta la mia persona si è tesa e ho contratto la mano sulla rivoltella. Il grilletto ha ceduto, ho toccato il ventre liscio dell'impugnatura e là, in quel rumore secco e insieme assordante, che tutto è cominciato. Mi sono scrollato via il sudore ed il sole. Ho capito che avevo distrutto l'equilibrio del giorno, lo straordinario silenzio di una spiaggia dove ero stato felice. Allora ho sparato quattro volte su un corpo inerte dove i proiettili si insaccavano senza lasciare traccia e furono come quattro colpi secchi che battevo sulla porta della sventura. Il datore di lavoro chiede a un certo punto a Mersol se Eddi sia disposto a trasferirsi a Parigi migliorando così il suo lavoro. E questa è la risposta di Mersol. Vediamo la citazione. Aveva l'intenzione, si riferisce al suo principale, di installare un ufficio a Parigi per trattare i suoi affari sul posto. Questo mi avrebbe permesso di vivere a Parigi e anche di viaggiare una parte dell'anno. lei è giovane e mi sembra che sia una vita che dovrebbe piacerle. Io gli ho detto di sì ma che in fondo per me era lo stesso. Allora mi ha chiesto se non mi interessava un cambiamento di vita. Ho risposto che non si cambia mai di vita, che del resto tutte le vite si equivalgono e che la mia, così com'era, non mi dispiaceva affatto. Questa è una tematica tipica di tutto il romanzo, questa indifferenza nei confronti delle cose, degli eventi, un'indifferenza che però non è un'indifferenza pavida, non è un'indifferenza di chi non prende banalmente posizione perché non ha idee, ma perché è un'indifferenza metafisica. è un'indifferenza rispetto a un mondo in cui si vuole trovare una risposta che non c'è. E questo senso di estraneità, questo estraneamento dalla realtà è un'altra tematica tipica che porta il protagonista alla noia. La noia è un'altra è un'altra delle è un altro dei temi ricorrenti. Estranità, noia, l'indifferenza si avvicendano nel romanzo e ne costituiscono l'ossatura, costituiscono quei sentimenti dell'esistenzialismo di Camus. Una vita fatta di estranetà, una vita fatta di indifferenza, una vita fatta di noia, ma una noia diversa ecco appunto da quella di altri esistenzialisti, di altri scrittori, un'indifferenza come dicevo metafisica. Sono queste le tematiche di fondo. Questa estranetà deve essere vista come una sorta di scollamento dalla realtà, come se la realtà fosse... è come se davanti alla realtà ci fosse un muro, ci fosse una patina, ci fosse qualcosa che non solo non ce la fa comprendere, ma rende la realtà respingente, rende la realtà come un grido inascoltato, come qualcosa che non ci comunica più nulla, non ci fa sentire più nulla se non la pena assurdità. Quindi una totale estranetà che diventa un'estranetà dell'uomo da qualsiasi compito, da qualsiasi beruf, da qualsiasi missione. Non c'è missione, non c'è una volontà eroica di grandi imprese, di grandi successi, eccetera. Tutto questo viene visto come vacuità, come nulla, come qualcosa che sul piano dell'essere non trova posto. E questo esistenzialismo crudo, questo esistenzialismo anche roboante che è tipico di Camus, che in questo senso è pensatore raffinato, è pensatore che in questo romanzo e negli altri scritti dà un'analisi di un certo tipo di uomo, di uomo che sperimenta una forma di mal di vivere in fondo, come abbiamo visto già nei personaggi di Riasporto, della Deleida, da un mal di vivere diverso da quello, un mal di vivere più metafisico per restare in tema, un mal di vivere dettato da una piena estranità al mondo, alle cose, alle convenzioni, a una presunta natura delle cose, un mal di vivere che è un mal di vivere che non è la volontà di trovare un Parmenide da ammazzare, non c'è un parricidio da fare come fece Platone con Parmenide, non c'è un nemico da abbattere, non c'è un padre da distruggere per andare avanti, è un mal di vivere che non trova sbocchi se non nell'assurdo e nel nichilismo, in un senso di nulla che pare un senso che in realtà agli occhi di Camus è il senso, è il non senso che l'uomo e il filosofo trova quando ha riconosciuto la realtà per ciò che essa è. Durante il processo viene posta una domanda a Mersol se il di appunto si penta di ciò che ha fatto che se ne renda conto e questa anche quella sua risposta vediamo che cosa ci dice il testo. Il giudice poi si è alzato in piedi come per informarmi che l'interrogatorio era terminato. Mi ha chiesto soltanto sempre con quell'aria un po' strana se mi dispiaceva quel che avevo fatto. Ho riflettuto un po' e ho detto che piuttosto che dispiacere provavo una certa noia. ho avuto l'impressione che non mi capisse ma per quel giorno le cose si sono fermate lì. Questa noia esistenziale poi qui Mersol e quindi Camus dice c'è una sensazione di non essere capiti un'incomunicabilità perché questa sensazione di assurdo di noia di estranità al mondo è qualcosa che si può comunicare fino a un certo punto è qualcosa che ognuno di noi si porta dentro l'altro non può capire mai fino in fondo. Quando il prete viene trascinato via da Mersol dopo che Mersol l'ho aggredito il romanzo si chiude e si chiude in questo modo riferendosi appunto al prete scrive Camus partito lui ho ritrovato la calma ero esausto e mi sono gettato sulla branda devo aver dormito perché mi sono svegliato con delle stelle sul viso rumori di campagna aggiungevano fino a me odori di notte di terra e di sale rinfrescavano le mie tempie la pace meravigliosa di quell'estate assopita entrava in me come una marea in quel momento e al limite della notte si è udito un sibilo di sirene annunciavano partenze per un mondo che mi era ormai indifferente per sempre per la prima volta da molto tempo ho pensato alla mamma mi è parso di comprendere perché alla fine di una vita si era presa un fidanzato per chi aveva giocato a ricominciare laggiù anche laggiù intorno a quell'ospizio dove vite si stavano spegnendo la sera era come una tregua melanconica così vicino alla morte la mamma doveva sentirsi liberata e pronta a rivivere tutto nessuno nessuno aveva il diritto di piangere su di lei e anch'io mi sentivo pronto a rivivere tutto come se quella grande ira mi avesse purgato dal male liberato dalla speranza davanti a quella notte carica di segni e di stelle mi aprivo per la prima volta alla dolce indifferenza del mondo nel trovarlo così simile a me finalmente così fraterno ho sentito che ero stato felice e che lo ero ancora perché tutto si è consumato perché io sia meno solo mi resta ad augurarmi che ci siano molti spettatori il giorno della mia esecuzione e che mi accolgano con grida di odio la mia esecuzione Grazie a tutti.